Siamo a Milis, la croce la stanno portando i bambini Il seminario è partito questa mattina alle sette dal rimedio e dopo aver fatto sosta a Massama, San Verumili e Milis dove ci troviamo adesso, si prosegue per l'ultima tappa a Bonarca No, no, aspetta Marci Di dove siete? Di Milis Tutti di Milis Si parte Allora si parte, siamo pronti per il tratto più duro Allora si parte, siamo pronti per l'ultima tappa a Bonarca Allora si parte, siamo pronti per l'ultima tappa a Bonarca Allora si parte, siamo pronti per l'ultima tappa a Bonarca Allora si parte, siamo pronti per l'ultima tappa a Bonarca Allora si parte, siamo pronti per l'ultima tappa a Bonarca Allora si parte, siamo pronti per l'ultima tappa a Bonarca Allora si parte, siamo pronti per l'ultima tappa a Bonarca Allora si parte, siamo pronti per l'ultima tappa a Bonarca Allora si parte, siamo pronti per l'ultima tappa a Bonarca Grazie a tutti.